Capitolo 24. Effetti collaterali del trattamento con allopurinolo nei cani affetti dall'esmagnosi. Cari colleghi, in questo blog di aggiornamento bibliografico ci occuperemo degli effetti collaterali dell'uso dell'allopurinolo per il trattamento di mantenimento dell'esmagnosi canina. Come comunemente sperimentato da chi utilizza spesso questo farmaco, la formazione di uroliti e cristalli di xantina è un'evenienza comune. In questo riassunto troverete i risultati dell'articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista inglese Journal of Small Animal Practice. Il titolo dell'articolo, gli autori e le indicazioni bibliografiche sono disponibili sul blog My Love all'indirizzo www.mylove.net. Come ben risaputo, la lesmagnosi canina è una malattia zoonossica trasmessa da un flebotomo e sostenuta da lesmania infantum. La terapia del cane si basa primariamente sull'impiego di antimoniato di meglumina per via sottocutanea alla dose di 50 mg chilo due volte al giorno per quattro settimane, insieme ad allopurinolo, farmaco parassitostatico, per via orale alla dose di 10 mg chilo due volte al giorno per sei mesi, utile a prevenire per quanto possibile le recidive. L'allopurinolo, farmaco abbastanza sicuro, è però in grado di indurre la comparsa di xantinuria e di uroliti di xantina, a seguito di terapie prolungate. La xantina è un prodotto che si forma nell'ambito della degradazione delle purine. L'allopurinolo inibisce un enzima, xantinoossidasi, in grado di degradare la xantina. In corso di xantinuria da allopurinolo si riduce la formazione di acido urico ed aumenta la produzione di metaboliti delle purine, tra i quali la xantina e quella meno solubile nelle urine. Gli uroliti di xantina, infine, sono anche difficili da diagnosticare perché radiotrasparenti. La finalità dello studio è stata descrivere i principali effetti collaterali conseguenti alla somministrazione di allopurinolo. Sono stati inclusi cani con lesmaniosi ai quali veniva somministrato allopurinolo, nei quali erano identificabili alterazioni ecografiche dell'apparato urinario. Solo cristalli di xantina, mineralizzazione renale senza urolitiasi più xantinuria, urolitiasi senza mineralizzazione renale più xantinuria, oppure tutte e tre le alterazioni, cristalluria, urolitiasi e mineralizzazione renale. Per quanto riguarda i risultati ottenuti, su 320 cani inclusi nello studio tra il 2009 ed il 2012, 42 soggetti hanno sviluppato alterazioni a carico dell'apparato urinario associate alla terapia con allopurinolo. I 42 soggetti inclusi hanno ricevuto esclusivamente antimoniato ed allopurinolo. In particolare, l'intervallo di tempo tra l'inizio della terapia con allopurinolo e la comparsa di xantinuria variava da tre settimane a nove anni, con una mediana di un anno. Nove soggetti hanno manifestato esclusivamente xantinuria, 11 mineralizzazione renale, 9 urolitiasi con xantinuria e 13 le tre alterazioni in contemporanea. 22 cani hanno manifestato uroliti distribuiti in differenti distretti, vescica, reni ed ureteri. Nei 19 pazienti sono stati identificati segni clinici riferibili ad ostruzione urinaria o disuria. Discussione. In accordo con quanto riportato in letteratura, xantinuria e urolitiasi da xantina rappresentano il caratteristico effetto collaterale della terapia con allopurinolo. Sembra che la durata della terapia con allopurinolo non influenzi la comparsa di xantinuria e della urolitiasi da xantina. Poiché la xantinuria rappresenta un evento non infrequente, si consiglia di monitorare l'apparato escritore di soggetti trattati con allopurinolo mediante esami ecografici seriali. Viene consigliato in questi soggetti di utilizzare diete a ridotto contenuto di purine per ridurre la possibilità di formazione di uroliti di xantina. La formazione di questi uroliti rappresenta un processo irreversibile con effetti collaterali potenzialmente gravi poiché non sono disponibili terapie mediche utili alla dissoluzione di questi uroliti.